Allora siamo con Luca, un pronostico Italia-Uruguay mondiale 2014 1-0 per l'Italia Chi segna? De Rossi De Rossi, tu quindi immagino che sei della Lazio, è vero? No, sei della Roma Sei Juventino Ah, Juventino, è vero, no? Scusa Sei Juventino Però segna De Rossi Sì Giocano sei Juventini oggi in campo, no? Sì, lo so Però segna De Rossi è lo più mogliato Benissimo Da l'anima sul campo De Rossi, eh? Sì Speriamo bene allora, grazie Eruka E niente Ciao